buongiorno anche se sono ormai le 11 passate non so che ora sia esattamente comunque oggi abbiamo ordinato un po di cose sembra disordine ma adesso so dove sono tutte le cose senza problemi prima ho fatto le cose fatte a furia bici fissata ecco le corde buona adesso ho fatto anche sistema praticamente il letto qui mentre vado che fa le curve dello stereo dello dello spluga non dovrebbero non dovrebbe muoversi perché adesso l'ha fissato qua allora volevo fissarlo la ma vedo che già lì si rischia di spaccarsi già so anzi forse sposto anche la corda della bici e pecelino si spostarsi quello il rischio di spaccarlo uno l'ho comprato già rotto di cancetto sugli portabili bene ho messo questo di questo non si può più rovesciare bello fisso quando voglio fermarmi a dormire tiro giù questi e mi stendo ok qui adesso stiamo caricando ancora il computer con l'inverter 1000 va di potenza massima 500 di potenza continua peak power mille actual power 500 euro per fare per vendere lo scrivono mille no che picco le batterie che ne ho ancora per 13 virgolosa perché per cui fino a 12,8 sono a posto sotto i 12,8 del ifepo 4 è sconsigliabile utilizzarle anche se anche se qua vabbè ciò carichi leggeri niente qua ho tutto questa quale ieri 5 euro per comprare una bottiglietta così di vitamine web booster la fragola però il bambinetto insisteva era simpatico ma si facciamogli vedere che è bravo a vendere così tutto contento frigorifero staccato perché ovviamente vedere questo batteri pack per non fare andare giù le batterie la batteria del chrysler chi ha un'autonomia un'autonomia di 785 a un'autonomia di 75 ampere questi ne hanno il totale 40 per quel 75 però bisogna dividere per due perché è la batteria piombo dell'auto quindi sono 35 e vecchia andrà 15 a 20 ampere di autonomia qui abbiamo praticamente il doppio della batteria del chrysler a disposizione come vattaggio perché sono nuove oltretutto e queste durano molto di più dell'epo 4 sono per i sistemi solari per cui sono più qualitativamente migliori più cari ma migliori io risolvo tutti i problemi ma non sono ruote lenticolari ma è una doccia portatile può parte e si apre in 15 secondi qui abbiamo da buttar via l'immondizia è che faccio una dedicata sto sto caricando il computer adesso scarico i file che ho fatto dal cellulare così al cellulare con la memoria più ampia a qui ho scoperto anche che le tendine che bello si possono questo qua sulle tendine no che così quando io dormo di notte o in un parcheggio tiro e la gente non vede dentro quello che sto facendo sto dormendo se c'è un computer così poi avete scurati per cui mi proteggo anche abbastanza bene non mi hanno mai rubato niente dentro il veicolo che un veicolo che non ha il bagagliaio chiuso ma è aperto tutto aperto il veicolo come vedete qui allora stamattina è arrivato uno con un pick up a controllare boh contattori non lo so di so che non sapete anche di chi era sta porta non lo so ma adesso non c'è nessun problema qui e dopo niente li riguarda la polizia ve l'ho spiegato poi la polizia mi fa essere in un posto pericoloso ma va perché la gente li ha chiamati e non volevano che io fosse lì fermo poi il target italiano magari potrei essere anche uno zingaraccio o un ladro in giro che fa casini e non sono neanche in italiano per cui la gente l'avrei avrei avrei chiamati controllo tutto tutto a posto erano un po titobanti e c'è impiegato a convincere io sono qua a vedere il tennis mi fanno tre volte ma lei cosa può fare solo qua un turista sportivo vedere il tennis io ho detto così l'ho detto proprio no sono qua vedere il tennis turista in inglese perché si chiamava cognome italiano non parlava italiano con cognome italiano vabbè allora gli ho detto ma no sono 4 qui non sono pericoloso figuriamoci ok adesso cambiamo perché giorni che qua vabbè adesso arriva il sole tanto sotto il sole vabbè qua sono sotto le piante stanotte ha piovuto niente adesso mi sposto sempre nel parcheggio pomeridiano sono un po impuntito però per dormito un po male cioè ha dormito bene però all'orario sono andato a letto troppo tardi per cui questa questione la polizia da giù in caserna e tutto vabbè perché avevo portato i documenti che non trovava una confusione cioè lì dove avevo messo invece non li avevo messi perché erano lì dove devono stare infatti come come data di la polizia ha trovato tutto quello che devo trovare che c'era tutto in ordine poi di notte porto cani fanno i controlli ok che ci vede di notte anche bello riposare 4 stanotte ha dormito sopra le coperte perché non faceva freddo 16 gradi contro 16 gradi ma quasi sudavo quasi lo caldo per cui tutto a posto adesso partiamo qui abbiamo giù adesso tutto e tutto e tutto tutto l'ho portato dall'italia ormai l'ho fatto fuori manca quattro patate in e poi basta qui adesso abbiamo giù quattro bottiglie d'acqua vuote che riempiremo abbiamo il tè in polvere per fare il bel tempo qua ragazzi le cose costano è amici svizzeri siete un pochino cari per noi turisti italiani anche se guardiamo guadagniamo come vuoi in italia per cui qualcosina vi lascio anche come soldi ma non tanto finora avevo lasciato 40 franchi svizzeri per il bollino per prendere delle autostrade che sono come le nostre super strade limiti 60 80 100 sono più dei 60 che quelli dei cento comunque e è una corsia ho lasciato sette euro e mezzo di cappuccino e un dolcetto al mcdonald 5 euro di quella bottiglia lì ieri 4 euro di un gelatino al caramello al mcdonald poi rifericheremo fatto anche video i prezzi analoghi al mcdonald italiano basta tutto lì finora altri soldi non ve ne ho lasciati quasi tutti con la carta di credito che ho tutti la carta di credito guarda c'è quanto un po di franchi svizzeri che ho guadagnato ancora i tempi quanto 2009 ragazzi 13 14 anni fa 13 anni fa e mezzo 14 anni fa e c'è quello qua franchi svizzeri quando vendevo foto ai turisti svizzeri nei locali italiani quando riuscissi riuscivo ancora a vendere foto alla grande li vende poi gli svizzeri veramente pagavano bene io gli chiedevo io facevo i prezzi io sono un altro c'è prezzi italiani gli svizzeri così poco no tieni di più cacchio ma veramente ovvero me bravi il svizzico bel popolo è un sistema un po strano è perché è un po complicato per me non ci vivrei qua in svizzera non perché non mi piace ma perché cacchio tra pacchetto casino e sta tutto rigido mamma mia fai qualcosa sbagliato dopo due minuti di piomba l'osso la polizia a farti dei controlli qualcosa che sembra sbagliato perché sono sempre tutto in regola anche se potevo darmi la multa per il vieto di parcheggio e invece non è andata il controllo ha capito dai parcheggio di notte della multa parcheggio di notte vuol dire mandati agli strani ok qua è trovato questo posticino niente andiamo svuotare la pattumiera trovare acqua rifaccio il tè far colazione mangiato di parisini che c'ho qua tutto a posto ok stavo partendo e porca vacca ragazzi allora a terzo controllo della polizia ho saluto in quel controllo detto che ho fatto del biglietto di visita visita del loro collega gli ho fatto vedere tutti i documenti certificato di revisione appena fatto 23 giugno che finisce 23 25 patente scade 2029 tutto a posto carta d'identità ancora tutto regola ok il detto ma qua si può perché sì però la gente ci chiama per controlli allora polizia carabinieri vigili italiani allora qua quando la gente chiama arrivano in cinque minuti capito se imparare dagli svizzeri invece noi quando chiamiamo che vediamo qualcosa di sospetto ma deve venire qua a fare la denuncia non possiamo intervenire che cavolo deve andare nella sua provincia qua sia fuori provincia e deve chiamare cioè ma che cavolo stiamo facendo in italia sono quelle le cose che non vanno in italia non che la sporcizia c'è anche svizzera vi ho fatto vedere io allora io non sporco perché io metto giù tutto nelle sacchettine di plastica e ok e io non sono uno di quelli che incivili che arrivano qualche svizzera poi detto noi in italia siamo peggio qua ci sono le montagne di spazzatura in italia però anche gli svizzeri sono dirigenti suona il camion non suona in svizzera capito camionisti anzi non camionisti camionisti non suonano i non camionisti suonano quelli che sono dietro il camion che pensano di essere camionisti camionisti sono un'altra categoria non gli ha suonato ok e non era in mezzo alla strada porco giuda allora tre controlli tre volte in regola piatto non c'è nessun divieto se si può stare però poi mi ha consigliato non era sempre ragazza ragazzo di qua a scambiare due chiacchiere pacificamente ma consigliato di andare giù vicino campeggio geolago stanotte lo spiegato l'ultima notte a dormire quindi molto anche molto cordiali anche i poliziotti svizzeri però loro se li chiami arrivano porca miseria qua niente e purtroppo ci chiamano dobbiamo controllare fate il vostro dovere la gente è un po qua è sclerata e perché ok sia c'è anche ragione perché io penso che sono l'unico qua adesso in giro come uno zingaro è perché se così impossibile girare e anche ritornarci o vieni qua in hotel e spendi per quattro giorni 3 mila euro porto giura 3 mila euro si fa per lì comunque un bel 300 bel 1200 li spendete se volete dare in un hotel serio hotel non seri non ce ne sono ok bene vi lascio va con sta giornata che stanotte ha piovuto e via terzo controllo in tre giorni della polizia due in pochi o in poche ore tutti i contenti sono andati via che ha fatto il loro dovere che hanno visto che non sono pericoloso sono qua da solo ragazzi che pazienza però va bene chiudiamo qua col paesaggio qua svizzero va un saluto qui all'ombra ancora freschetto lasciamo il parcheggio imboscato che però è arrivato quello un ciclista è passato via un trattore poi questo quale amico qua del pick up il ciclista l'ho anche salutato chi li avrà chiamati i poliziotti chi lo sa bene adesso andiamo sommetto sul computer vedete qui io non so dove prima di perdermi fare chilometri a vanvera metto qui dove si va waypoint l e dove c'ho il parcheggio lì ok vai e adesso lui mi fa il calcolo e poi io lo seguo quel navigatore di impazzito ragazzi e seguo quello lì allora bene partiamo freno a mano levato vedete questo freno a mano e poi non c'è un freno a mano né marci cambio automatico schiacciamo il pedale del freno metto su di da n a di metto e qua non si vede tanto è e posso procedere che adesso io mi fermo un attimo per vedere se non ho dimenticato niente le scarpe comunque le ho tirate su ci fermiamo un attimo e per non tornare indietro recuperare qualcosa che magari ho appoggiato per terra eccetera freno a mano è nel parcheggio qui non abbiamo lasciato proprio niente lo sicuro su un controllino ok va bene abbia lasciato tutto pulito noi non siamo i civili italiani ci sono poveri sono civili sono più pochi quelli svizzeri ma ci sono anche qui via dovrò dimostrato perché noi non siamo in giro a vendere tappeti questo è tennis noi se una c'è un doppio fallo lo dobbiamo raccontare non ve lo possiamo nascondere purtroppo la situazione è questa bene era dal 1975 ok andiamo corino sbagliato lino tommasi su qui per vedere le macchine qua non c'è vedete qua non c'è ne specchi né niente non c'è ne specchi né niente e qua bisogna saltare fuori come si luri ma c'è un ciclista bici qua è pedonale lì il ciclista non può prendere la pedonale questo va un po piano vecchiettino ok vedete qui non ci sono buche comunque non è neanche la precisione neanche qua e dove le strade sono vecchie neanche svizzera sono precise qui c'è un po di dato si sono fanno le cose meglio che in italia ma neanche svizzera non sono precisi adesso un camion che non tiene la distanza vedete ciò attaccare la cintura qualche avevo ne ho dimenticato attaccata che la cintura qui che limite c'è ci sarà 60 no io c'ho dietro la coda e sto rispettando i limiti anche qua c'è dietro la coda è come in italia vedete lì c'è zuc il lago 60 60 all'ora vedete amici 60 all'ora ma adesso il camion si è un po staccato ma no perché gira si staccato perché gira di no 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 non gira si è proprio proprio staccato va a 50 all'ora il camion sono dove a seguire per bar ma adesso memoria ho il grottem ho il grottem bar quindi non andiamo giù azzurdo ero andato la prima volta io sono proprio venuto di qua e andiamo a bar perché il tennis e il torneo lì a bar però non ci andiamo in macchina perché avete visto che casini coi parcheggi qua tutte e di quasi o parcheggio potremmo questa proprietà privata non ce l'hanno messo ma lo so io che privata e proprietà privata il divieto di vieto di accesso le macchine adesso io accelero un po tanto sono 50 all'ora adesso sono 60 adesso per staccare il camion in modo che dopo giù la al parcheggio posso parcheggiare che non mi tampone questo qualche faccio anche di tamponare poi con l'assicurazione questo inizio è un casino anche se hai ragione ok adesso andando 60 freno un po perché in curva 60 le mucche vedete una curvetta porca miseria comunque ho fissato tutto via dai ultima notte poi dopo fra tre o quattro controlli ancora della polizia ritorno in italia ok va bene ragazzi qua è andata curva dopo questa curva troviamo il nostro parcheggino dovrebbe essere qua attorno ancora lontano il parcheggino eccolo qua il parcheggino ho chiesto alla polizia qua non c'è nessun divieto cioè sarebbe un'area di sosta e gli ho detto è però in inglese eh ma non vedo cartesili la può mettere anche se è un'area di sosta ci sono cartelli e non sono multabili ragazzi è un'area di sosta il cacchio ne so io ok e oggi sempre giovedì 28 di luglio ragazzi niente adesso andiamo giù al tennis Gigante e Fognini giocano come gli ultimi due incontri sul centrale abbiamo due italiani e due belgi poi adesso ce ne mancava l'incontro ieri sera che non ho visto l'avranno spostato poi sui campi secondari perché da tardi io giro qui sul centrale grande ale 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 credevo che sul centrale non c'erano incontri vediamo questo è il tempo io adesso mi tiro dietro la keyway perché ormai qua oggi non dovrebbe piovere però ormai qua vai a saperlo te qua ho visto anche stamattina dal tetto c'è dal tetto lì e dal oblò dall'unato posteriore vedevo su vedevo su le nuvole che andavano a manetta adesso un po' si è liberato fuori forse oggi non piove magari vi faccio vedere qualcosa sono mezzo rintronato perché ho dormito bene ma ho dormito poche ore che dormire da cavi sono svegliato te e mezzo con la luce ho detto sette e mezza ero tu sai le 10 11 ma è sette e mezzo tu sai dove ho dormito tanto oh la polizia qua che cacchio fanno no la croce rossa questa rdz e niente allora adesso andiamo 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 qua andiamo sul nostro solito posto ormai in questa quadrilogia che poi è quintologia perché è quadrilogia notturna quintologia pentologia zuggese grande guarda giù e qua si divertono ad andare invece in paradiso ragazzi alla prossima